Oggi io e Lorenz, isti il pinguino supremo, dovremo sopravvivere all'attacco di tutti i mostri, questa volta indemoniati cattivissimi, di Poppy Playtime capitolo 3, all'interno di basi stranissime, passando dal cesso e legno contro Dog dei Demone, fino ad arrivare alla base admin super sicura contro tutti i mostri contemporaneamente. Riusciremo a sopravvivere! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere! Buona visione! Basta! Non ne posso più! Ogni volta che invito Lorenzista a fare un video... Mi scu... Chi è lei? Ah, Loren! Scusi, signore! Eh, ma che ci fai qua? Ti avevi invitato e mi hai detto no, non posso, devo riscaldare il tostapane e si è venuto lo stesso? Io sono il sindaco di Lignano! Ah, no, 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 ma perché? Ma perché mi hai dovuto ammazzare? Ma poi... Ma quale? No, no, aspetta! Aspetta, piano, piano, piano! Ok, allora, un attimo solo, dicevo, si è già sporcato tutto di sangue, vabbè, questo tipico dei miei video, tu non ti preoccupare. Per la prima volta nel mio canale c'è Lorenzista, che non ho capito. Io vengo sul tuo canale e tu non vieni sul mio, questa cosa non mi piace per niente. E no, adesso lo sfatiamo questo mito, lo sfatiamolo! Esatto, esatto, top 5 misterios da sfatare. Oggi siamo in una delle serie che a quanto pare vi è piaciuta di più in assoluto, ossia i mostri giganti che attaccano le basi. Dalla più stupida, che sarà di nuovo un cesso ma un po' più moderno, a quella admin. Sì, oggi proveremo una base admin super rinforzata contro i nuovi mostri di Poppy Playtime, ossia quelli indemoniati, quelli demoniaci, zombie, horror. No, diventa un mostro di Poppy Playtime, aspettami un attimo. Per favore, oddio è sparito, è sparito il pinguino. Ragazzi, mi sta mettendo anzi il fatto che non ci sia più il pinguino. Lorenzo, dove sei? No, che già l'ultima volta mi hai fatto cagare addosso. Oh, mi preparo con le armi. Io sono pronto, sono cari... Eh, no, quello sono io, no, ma non puoi ammazzarmi con me stesso, non funziona così. Comunque adesso seguimi che ti mostro tutte le basi nelle quali ci ripareremo oggi, sei pronto? Ok, me le mostri tu perché... Mi piacciono i pinguini, ma il tuo pinguino mi mette ansia, agli occhi che mi hai sparito. Vabbè, guardiamo le basi ragazzi che già mi sto cagando addosso. Intanto che Poggo sta sistemando le basi, ti consiglio di guardare tutto il video fino alla fine perché succederanno cose trane. Lore, ma levati da davanti alla mia telecamera. Ma scusa, ma non ho capito. Guarda, ma che stai facendo? Vabbè, io non ho parole. Questa è la prima base che proveremo, ossia un cesso un po' più grande di quello dell'ultimo video, che era praticamente il cesso di Shrek. Guarda quanto è bello. Ma ci puoi andare così? Sì, è vero. Tu, tra l'altro, sei grande quanto tutto il cesso. Smettila di guardarmi così, ti prego. Ah, ma io sono dentro. Questo cesso invece, che sì, è pur sempre un cesso, ma è leggermente più rinforzato. Come vedi abbiamo la porta blindata, le pareti non sono in legno. Se uno caga qua dentro, non si sente la puzza. Esatto, in realtà devi chiudere la porta perché se lasci la porta aperta, la puzza si sente lo stesso. Aspetta un attimo che la chiudo subito. Oh mamma mia, sta per rompere tutto. Sì, sì, vabbè, quasi, quasi. Aspetta, 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 ok, dai, ok, 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 perfetto. Adesso è chiusa, mi raccomando, restagli a cacare che io faccio vedere ai nostri amici le altre basi. Arrivo. Ti prego, smettila di guardarmi così, libera la mia famiglia, ti do tutti i soldi che vuoi. Io non ti sto guardando male. Sì che mi stai guardando male, soprattutto con un fucile al plasma in mano. Io ho una balestra, perché io faccio attività fisica, io vado in balestra. Comunque, quello che ti volevo dire è che la terza base è molto più rinforzata degli altri due cessi. Proprio perché è un container che veniva usato in precedenza come rifugio anti-zombi. Non so se questo si può chiudere. Ok, posso testarlo? Posso testarlo? Come lo vuoi testare? Va bene, va bene, vai, lanciogli una granata, ti faccio vedere che resisti a tutto. Guarda là, guarda là. Aspetta, aspetta. Sì, sì, tutto in fondo. Ovviamente ragazzi ricordatevi che alla fine del video proveremo la nuovissima base admin inespugnabile con ascensori, scivoli, fatta di un materiale super resistente e che sicuramente ci salverà. O almeno spero. Prima però di farla vedere anche a te ti faccio vedere la quarta base, ossia un'intera villa fatta in legno. Magari questa rampa poi la distruggiamo perché sennò ci salgono dentro. Certo, così. No, aspetta, vediamo se è così. Vediamo se è così. Ok, a posto. Abbiamo capito che con la balestra si può distruggere. Forse non tutto, comunque questa base è gigantesca. Una roba mai vista prima. Questa è bellissima anche perché abbiamo anche le torrette qui, dalle quali ci possiamo mettere e possiamo sparare ai mostri che arrivano, sempre che non ce la distruggano prima. Bello, benissimo. Ah, guarda. Mi lagga tutto. Perché mi lagga tutto? No, perché ti lagga tutto? Sei vivo? Sei morto? Ok, vedi qua giù? Sì. Ci sono dei cestelli che se li premi salgono. Salgono i cestelli. Aspetta, però sali. Guarda, sì, up, up e giù, up and down, up and down. Ok, aspetta, aspetta, ok. L'ho eliminata. Adesso sei pronto a vedere la base admin? Sì. Oh, ma no! Hai visto? È gigantesca! Dai, però, 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 visto che sono pazzo, visto che siamo pazzi tutti e due, non la faremo vedere subito ai nostri amici a casa, ma la faremo vedere alla fine. Perfetto. Io mi rifiuto dopo questo. E adesso vi mostro i mostri. Ecco, diciamo che questa volta i mostri sono leggermente più arrabbiati. Abbiamo Dog Day Cursed, abbiamo Huggy Wuggy Ragnoide Schifoso, Huggy Wuggy Zombie, Cutnap Demone Zombie e poi abbiamo Nightmare, Cutnap Cursed. Guarda che schifo! Guardami un attimo, Pocco! Ma questo qua è piccolo! Eh, lo so che è piccolo, poi lo ingrandiamo. Non ti preoccupo. Ah, questo qua è piccolo. Questo potrebbe essere un problema. Cioè, ma perché l'hai ingrandito? Già, è terrificante di suo. Mi piaceva appena, appena, tutti i grandi, poi lui minuscolo. Ah, vabbè, 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 a sto punto scusa, visto che ci siamo, per non farlo rimanere indisparte, ingrandisci un altro po' pure lui, no? Guarda, vabbè, oh, vedi? Adesso sono tutti della stessa altezza e volevo iniziare da Dog Day perché ho detto il più piccolo e il più noquo. Adesso è diventato più pericoloso di Huggy Wuggy. Però non fa niente. Gli faremo attaccare il primo cesso e non vedo l'ora di ficcartici dentro perché sarai tu a dover sopravvivere al primo cesso. Vieni qua, scappa, scappa. Non ti posso ingrandire, Pogo. No, no, non puoi ingrandire niente. Puoi solo scappare. Puoi solo scappare. Ok, Johnny, spawn ai cessi. Veloce. Allora sei pronto, prego. Entra nel primo cesso. Sì, l'ho ingrandito giusto un pelo di più. Eh, vabbè, ma su via. Visto che ti piacciono i mostri quelli giganti, l'ho ingrandito ancora di più, ok? Ok, devo entrare, devo entrare. Certo, certo, entra nel cesso. Ce la fa, bravissimo, mettiti lì. E adesso vediamo se riuscirai a resistere alla furia di Dog Day gigante. Mamma mia, comunque... No, ti prego. Comunque non ho parole, non so chi abbia inventato questa roba, ma sono... Aiuto. Vai, Dog Day, vai, attacca. Mi sto leggermente andando sotto. Eh, si sta avvicinando. Ti ha preso, non ci credo. Sì, mi ha preso. T'ha preso anche me, come è possibile. Eh, forse l'abbiamo fatto leggermente troppo grosso. Lo sai? Com'è l'odore del pavimento di legno? È buono? Buono. C'ho una faccia spiaccicata. Sì. Adesso tocca a me contro Aghiwaghi zombificato demoniaco. Eh, vabbè che sono già morto, ma questi sono altri dettagli. Entro nel cesso. Che stai facendo? È più brutto di mia nonna. Che stai facendo lì dentro? Comunque sei pronto? Mi faccio il bagno. Io sono prontissimo. Aghiwaghi? Non lo so, si sta attivando. Tu vedi qualcosa? Io non vedo niente da questo cesso. No, io non vedo niente. No, non si è attivato. L'ore, l'ore si è iniziata a muovere. L'ore si è iniziata a muovere. No, sta arrivando. Sta arrivando. Ma, aspetta. No. Ha preso a tutti e due, ma sto cesso fa cacare. Che bello dire sto cesso fa cacare. È così simpatica come frase. Sarà che sono lì rimasto a terra morto e lui sta ammirando il panorama. Io mi stavo facendo il bagno. Sì, vabbè, ma questi sono dettagli. Passiamo alla terza base gigante. Ovviamente poi, quando useremo la base admin, ci faremo attaccare da tutti i mostri cursed di Poppy Playtime contemporaneamente e li ingigantiremo sempre di più perché siamo pazzi. Ma adesso, proveremo la base bunker di sopravvivenza zombie, ma con un effettivo aghiwaghi, ragno zombie. Perché il bazooka? Aspetta, perché io ho l'occhio per il bazooka. Ah, sì, no, effettivamente hai letteralmente l'occhio dentro al bazooka. Però, va bene, ci sono dettagli. Ok, vieni. Sono dettagli, però va bene. Così io mi proteggo, poi. Vai, vai, prova a sparargli. Prova a sparargli. Vediamo che succede. Ok, vai. Non spararti sotto i piedi, grazie. Sì, vai, vai, spara, spara, prova, prova. Ok, abbiamo capito che i ragazzi non gli fanno niente. Io nel frattempo cucino. Sì, sì, spari. Io nel frattempo sto cucinando. Una bella zuppa. Sì, vai, tu spari, non ti preoccupare. Cuciniamo. Faccio un attimo. Ho finito le punizioni, pollo. I miei bisognini. No, spari, in che senso? No, 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 no. Piano. Ah, sì, siamo salvi. Siamo salvi, vai. Spara, 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 spara. Aspetta, mi è venuta un'idea. Vai. Sì, oddio, aspetta, il fucile a pompa, bravo. Io prego, no. Scusa. Eh, il problema è che ho dato anche uno schiaffo al microfono. Scusa, Pingu. Ti vendicherò. Ti vendicherò. Il problema è che è un po' difficile vendicarti. Aspetta, mi è venuta un'idea. Gli lancio una granata. No, la granata non ha funzionato. Gli è andata dietro. Eh, aspetta. Vediamo col pulse rifle. Vai. No. Non l'ho preso. Aiuto, aiuto. Sta tremando tutto. Sta tremando tutto. Aspetta. Lo faccio a rimbalzo. No, a rimbalzo non funziona. Vai. Non funziona. No, no, no. L'hai spostata tu, vero? Sì. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Maledetto. Maledetto che non sei altro. Al volo. Muori. Dai. Dove lo stai portando? Ma che è diventato? L'animale domestico. Aspetta. Sì, è il mio piccolo raggetto. Tieni. No, 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 no. Aspetta. Aspetta. Ho finito le munizioni. Ho finito le munizioni. Però ho un'arma che dovrebbe fare il caso mio. Ho l'arma, gatto. Oh, muori. Non è possibile che l'arma, gatto, non funzioni. L'ora, l'ora, come facciamo? Non ce la faccio. Eh, lo so che non ce la fai. Non ce la faccio neanche io. Aspetta. Vai, vai. Perché si è depotenziata l'arma, gatto? Allora, proviamo con questo. Vai. Allora, tienilo fermo. Tienilo fermo un secondo. Vai. È fermo. Non è possibile. Non è possibile che non muoia. Non è possibile che non muoia. Non è possibile che non muoia. Eh, no, no, no. Basta. Va bene. Pinguino psicopatico strano. Abbiamo capito che quell'Aidwaggy, però con una bestia leggermente più grossa. Mi sa che l'ho ingrandita troppo. Eh, lo so, l'ho ingrandita troppo. Aspetta, tolgo le rampe. Aspetta, stai distruggendo tutto. Le rampe le togliamo. Proviamo col bazooka. Ok. Ok. Come fai? Ha preso, ha fatto tutto. Spegni. Spegni. Va bene. Noi sopravvivremo dentro la base in fiamme. Sali. Sali, mio prode pinguino. Sali sopra. Tu, maledetto gatto. Vai enorme. Fatti sotto. Nel frattempo vado alla torre, Lore. Dove? Oh, no, no. No, si è cominciata a muovere. Ehi là, gattino bello. Si sta fermo. Fufi. Non lo so sta. No, no, no. Perché hai parlato? Perché hai parlato? Gattino. Spara, spara. Non lo so, vuole distruggerci tutto. No, no, sono caduto. Sono caduto dalla base. Guarda quanto è brutto. Oh, no, sono caduto dalla base. Come faccio? Come faccio? Risali. Allora, ci sono delle piccole. Sì, sono caduto dalla base. Ho capito. Ci sono delle piccole scelte. Basta di breve. Basta. Oh, ma sei un infame. Ma perché mi hai distrutto la base? Ma scusa. Aspetta. No, Lore, Lore, no. No. Allora, allora, Fufi. Io ti voglio bene, Fufi. Ma mi hai rimbalzato indietro. Fufi, sei un po' troppo grande. Non ce la fa, se mi vedi? Sì, no, io ti vedo. Fufi, vai a prendere il pinguino. No, no, no. Fufi, vai a prendere il pinguino. Non ce la fa, non ce la fa. Sì, vai a prendere il pinguino, Fufi. Vai, vai, mangia. Ho finito le punizioni. Ho capito, però, il pinguino. Aspetta un sacco. No, ha preso a me. E niente. Non è possibile. Eh, vabbè, collo. Maledetto pinguino. Sei un collo. Maledetto pinguino. Dove sei? Sei sopra la mia torretta. Sì, 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 vai, vabbè. Vediamo la torretta, vediamo. 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 Vabbè. Ecco. Oddio, ti ho fatto volare dall'altra parte della torre. Vieni qua. Abbiamo distrutto noi l'abbati. Vieni qua. Maledetto catnap. Cazzo mollo. Basta. Per favore, passiamo alla base admin, perché non ne posso più. Non so da chi devo difendermi, se da te o da lui. Ed ecco a te, che anche se l'hai già vista non fa niente, ma soprattutto a chi ci sta seguendo da casa, la base admin, fatta di un materiale stranissimo. Sì, è bellissima. Tra l'altro c'è uno scivolo, ci sono delle ascensori e tutto intorno. Ci sono tutti i mostri. Non ci riesco a salire, però. Eh no, dallo scivolo non ci puoi salire, è un po' complicato, non è un aspirapolvere. Guardate, guardate, gli abbiamo ingranditi, gli abbiamo fatti giganti. Sei pronto? Vieni, faccio vedere com'è questa base all'interno. Ok, intanto vinceremo noi. Eh, sicuramente sì. Aspetta che sto facendo scendere l'ascensore, perché è un ascensore, perché ascende. Ascende, giustamente. Esatto, che tecnicamente ascendere sarebbe salire, ma questi sono detti... Oh, ci muoviamo! Ascendi, ascendi! Ah, è vero, aspetta, è un po' coro, aspetta, no, vieni, vieni, ascensore! Ascendi, ascendi! Non ascende! Questi imbecilli di una scena... Allora, aspetta, non premere, che mi sa che qui riconosce il comando vocale. Alexa, fai scendere l'ascensore, tu stai zitta! Vabbè, ho cambiato idea, usiamo quest'altra, vieni. Ok, questo funziona, mi metto sopra. Dai, vai! Sono sopra. Dovrebbe... Oh, funziona! Oh, che bello! Guarda lì, guarda lì, guarda lì fuori! Si vedono dal vetro! Che figata! Allora, tecnicamente questa base dovrebbe essere inespugnabile, e dico, dovrebbe essere. Se riusciamo ad arrivare sopra, ascensore! Sì, riusciamo, ascensore! Oh, no, 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 troppo, troppo, troppo! Vabbè, facciamo una cosa, vola sopra, dai, posto, zanoggio, gli mettiamo tre quarti d'ora, l'ascensore, maledetta! La devo far rivedere! Ok, qui abbiamo una specie di scudo, nel caso dovesselo penetrare, e abbiamo un piano ancora più alto, dove c'è una bella poltroncina dove puoi ammirare il panorama dei mostri che ti attaccano. Prego, siediti, ti faccio vedere. Bello, che bello! Guarda che carino! Oddio, sembri una specie di villain di qualche anime, il pinguino malvagio! Comunque, sei pronto? Io sei tantissimo! Vediamo se ci stanno attaccando, perché in questo momento dovrebbero essere partiti, e invece no, stanno ancora aspettando il momento giusto. Oh, sono partiti! Sono partiti, però non riescono ad entrare! Ma, c'è un problema, Dog Day ha appena ammazzato Aghiwaghi, ragno, non lo so, è morto lì, che sta facendo cose, ma noi ce li abbiamo qua sotto. Ma non ce li abbiamo, esatto, ma non fanno nulla, aspetta, ma se ci c'è... Ma, Lore, ma perché? Ma me ne ho preso, come è possibile? Guarda, li sono bruttissimi, aspetta che voglio prendere la telecamera, sono qui sotto che stanno cercando di ammazzarci, io li vedo anche dalla telecamera esterna che fa da sicurezza e allarme, vogliono prenderci, ma non riescono perché siamo troppo in alto. Guarda, questo aghi è morto, guarda! Aspetta, mi è venuta un'idea, forse riesco a colpirli... Guarda, questo aghi è morto! Eh sì, era quello che ti stavo dicendo prima, che... Ok, piccolo consiglio, mai uscire fuori dalla base, soprattutto quando un piede di aghiwaghi è grande quanto casa tua. Ma scusa, ma perché adesso si sono fermati? Ci stanno aspettando? Non lo so, però... Ci stanno preparando! Esatto, è molto strana come situazione. Vabbè, in realtà a noi sta bene così, giusto? Esatto, tanto, cioè, non dobbiamo farci mangiare, no? Eh, ma magari si mangiano tra di loro? Oh, oh, ma si sono mangiati tra di loro? No, 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 non ho capito... Oh, ma what? Che è questo? Non ho capito, c'è stato una specie di tutti contro tutti e aghiwaghi è rimasto l'unico super... Ma posso ammazzarlo, aghiwaghi? L'unico super... Aspetta... Non lo riesco... No, 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 va bene, scusa! Al prossimo video! Senti, la base però in realtà è riuscita a resistere. Il problema... Ma... Se poi il problema è che siamo scemi... Eh, sì, il problema è che aghiwaghi sta seguendo te probabilmente. Vabbè, io mi vado a rificcare nella base e chi si è visto, si è visto. Come stavo dicendo un attimo fa... Al prossimo video! No, ti prego, non mi ammazzare. Ah, è finito le munizioni. Oh, è finito le munizioni. Oh, è finito le munizioni.